Ave, guest posing abbastanza nobile per Keon Pearson, campione in carica della 2.12 al Mr. Olimpia. Perché mi sembra che rispetto agli anni passati dove aveva un po' di difficoltà nel definirsi per le gare, si stia comportando un po' meglio. Perché mi pare che stia mantenendo un po' di definizione in più in off-season. Poi è vero anche che ha iniziato la prep per l'Olimpia, anche se manca qualche mese. Però in passato me lo ricordavo un po' più, non dico cicciottello, però ci siamo capiti un po' più in carne. Io credo che possa aprire un ciclo all'Olimpia, sinceramente. Pur non seguendo molto la 2.12, non mi pare di aver visto bodybuilder del suo calibro sul palco dell'Olimpia. Io credo che Sean Clarida non si riprenderà il titolo. Non mi pare di aver visto gente bella quanto Keon sul palco. Perché comunque, nonostante non arrivi ultra spellato sul palco, ha il compromesso giusto tra la massa, l'estetica, il colpo d'occhio in generale, la definizione. Che non è ancora paragonabile a quello degli altri suoi competitors, dei suoi avversari. Queste sono alcune foto che ha pubblicato lui, non ha pubblicato un video completo fatto bene degli exposing, però me ne avete mandato. Quindi parliamo anche di 2.12, cioè 2.12 del campione, più che altro non è che voglio parlare di tutta la categoria, perché fondamentalmente non sono un grande fan, però almeno all'Olimpia la finale me la seguo con piacere, anche perché in questi ultimi due anni è stata abbastanza combattuta. Come detto, credo che possa ripetersi, non dico senza problemi quest'anno, ma quasi, credo che il titolo sarà suo e possa aprire un ciclo di vittorie, almeno 3 o 4, secondo me. Passando a Bebouztabani, ha pubblicato gli ultimi aggiornamenti, credo che sia in Iran, dove si sta mantenendo anche lui molto definito. Io mi auguro con tutto il cuore che possa andare all'Olimpia quest'anno, perché secondo me lui potenzialmente è un bodybuilder che si può avvicinare tranquillamente alla top 5. Da top 10 di sicuro, ma lo vedo benissimo nei posti più vicini alla top 5. Cioè, è uno, secondo me, che può stare tranquillamente vicino a un Antioject, a un Rafa Brandao, secondo me superare anche un Hunter Labrada, mettiamola così. Cioè, è davvero molto molto completo. Poi avete visto che anche quegli aggiornamenti rimane molto definiti anche in off-season, dove sia una cosa genetica, culturale, iraniana, perché anche Adichupan, lo sappiamo, è sempre molto definito anche in off-season, cioè non l'abbiamo mai visto appannato. Cioè, Adichupan o Berlus Tabani in off-season, sono più definiti di certa gente che arriva sul palco proprio in condizioni abbastanza pietose. Invece loro, proprio, sembra che ci abbia proprio geneticamente in Iran di essere così. Comunque, speriamo che riesca ad arrivare negli Stati Uniti quest'anno, che non lo blocchino per queste solite questioni del visto e non lo facciano nemmeno entrare in America. Poi, non so perché sia così complicato. Cioè, basterebbe che Adichupan, che ci è aggiornato 20 volte negli Stati Uniti, mettersi una buona parola. Forse non ci sarebbero tutti questi problemi. Poi, probabilmente è più complicata di come la sto mettendo io, eh, ovviamente. Però, mi sembra difficile che facciano tutti questi problemi per un bodybuilder. Concludiamo con Sadik Azovic, perché mi avete mandato davvero in tanti questa notizia. Io non seguo Miss Physique, non seguo queste cose di social, ma, a quanto pare, Sadik ha deciso di gareggiare di nuovo al Chicago Pro, che sarà questo fine settimana, se non erro, e dovrebbe fare il Men's Physique. Poi, ha detto in un video che, se non riuscirà a fare, a rientrare nel peso per il Men's Physique, allora si senterà il Classic. Lui, in passato, aveva già fatto sia il Classic che il Men's Physique, diciamo, senza troppo successo a livello di titoli, perché mi ricordo che non aveva fatto vittorie eclatanti, tipo all'Olimpia o all'Arnold Classic, queste gare che contano. E a me piaceva molto, però mi ricordo che sul palco lasciava un po' desiderare per certe cose, soprattutto la schiena e i dorsali, quando faceva il Classic, soprattutto. Però mi pare che abbia fatto più Men's Physique che Classic, però magari gli è tornata la voglia di gareggiare. Non penso che ne abbia bisogno, perché credo che abbia abbastanza soldi, avendo cavalcato l'onda dei social, però è uno di quei bodybuilder di alcuni anni fa, di cui si parla molto, che poi è un po' sparito, spiantato da altra gente, tipo Chris Bams, Ramondino, eccetera, eccetera, eccetera. Però vedremo se gareggerà, cosa farà. È interessante questo suo ritorno. Buona! Grazie a tutti!